Finire per la strada non è giusto. In strada si finisce per tanti motivi, perdita del lavoro, dipendenze, problemi con la legge. In altri casi i motivi sono separazioni, lutti o abusi tra le mura domestiche. Finire per la strada non è giusto. Finire per la strada non è giusto. Finire per la strada non è giusto.